Io non ho parole, io ho iniziato ad essere un po' stanco Cioè, forse per me, rega, io ve lo dico, io summonerai gente Io se arrivo a finire le braci, summono gente, non me ne frega un cazzo Cioè, ma perché devo avvelenarmi il fegato? Poi sono sicuro che rigiocando in New Game Plus arrivo qua più preparato anche con una build definitiva Perché al momento non me la sono studiata molto E poi riderò, riderò di questo frangente Però ora c'è da piangere No, ma ha schivato pure quello Ora si casterà le cose ricercanti, non è vero Perché non se le casta? Ora se le casta No, ma castati quelle cazzo di cose Mi hanno votato il messaggio Mi hanno votato il messaggio 1600 così, sull'unghia Dai, fai ancora l'affondo Ok, devo andare via Me ne stavo scordando Dai Lady Maria, smettila per l'amor del cielo Ma che cazzo di combo è questa? Ma chi te l'ha data? Da dove l'hai presa? La voglio anch'io Ma dai, per favore Non lo fare, non lo fare, non lo fare Ormai ho capito Dopo il calcio fa la presa No, perché? Ok Ah, pensavo stesse per farla presa Eh, me la prendo tutta mi sa Però voglio uittarlo Ok Mamma mia C'è nata veramente fatta da Bene C'è nata fatta Raga, abbiamo 11 Estus Non possiamo Perché ho bevuto? Perché ho parlato dell'Estus E mi sono curato Non possiamo morire adesso No, perché? Perché? Gli manca un colpo Gli manca un cuccio Gli manca un cuccio Ok E' fatta Va bene E' stata veramente più facile Di quello che Ah, non voglio commentarla Non voglio commentarla Avevo detto che avrei Sammonato qualcuno In casa E l'abbiamo fatto finalmente Anima dei signori Torniamo umani Perché dobbiamo essere belli Per la cutscene finale Ho messo il body di Artorias Perché fa più Artorias Ninja Non so neanche cosa sto dicendo Evochiamo la Guardiana del Fuoco Ah, ma spero non fosse una scelta Cioè, spero che Oddio Ho già scelto un finale Piuttosto di un altro Beh, vabbè Vediamo questo Mi interessa vedere lei Questo personaggio Che bella Nonostante non si veda niente Di lei Nonostante non si veda 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 E l'audio? Oh, è qualcosa di fantastico questo momento, stupendo. Adesso, stupendo. No, merda, è vero. Ok, questa fase la odio. Io che pensavo che fosse una pugnetta di boss. Sì, la From ci prende in giro. L'ho presa apposta, volevo fare un terzo hit, ma non c'è andata fatta bene. Ok, a sto giro lo prendiamo. No, perché? Stiamo usando troppo Extus, qua non ce la facciamo. Ho giocato troppo male. Oh, che fa? Sicura? Pezzo di merda. Forse sei castato Re-Raze. Forse sei castato... Ma scusatemi, non funziona Ripost. Forse in questa maniera lui si casta Re-Raze e mi ha ucciso. E se non glielo faccio castare, probabilmente non torna a vivere. Non lo so, sto pensando. Ok, entriamo nell'ottica che stiamo solo facendo esperienza. Devo comprenderlo ancora. Mi sta fregando sempre in quella maniera. Ma ancora... Ancora hit, ma scusami. Ma sei un cazzo di tryhard. Ha fatto 3 hit consecutivamente. Ok, ora mi lasci un attimo, vero? Non è vero. Sono facili da schivare queste cose a inseguimento. Aia. Perché? Perché lui si buffa ulteriormente quando sta in fase melee? Non è giusto. Cerca di essere una persona decisa. Che classe sei? Eh, l'ho pagata, l'ho pagata. L'ho pagata. Vabbè, vabbè. Prima o poi ti capirò. Ma se ti ero lontano, come fai a capire che ti faccio un attack in corsa in quel momento? No, ho sbagliato. Ah, non sei destabilizzato? Ma mi fai le finte. Oh, ma che cos'è sta lentezza? Ma si più rapido. Ecco, così mi piace. No, non si può fare riposto. Ho aspettato anche e non si può. Che bello che fa tutte quante le magie. È fantastico. No, non ne vuole sapere, lui deve stabilizzarsi. Ma io voglio la sua spada. Eh, non si può fare un doppio R2. Pretendo troppo. Vabbè, con questa spada è molto più semplice da affrontare. Ora io parlo, logicamente prendo botte perché è sempre così. Questa è stata la prima try di parry di un qualsiasi boss. Non ci ho mai provato. Non so neanche quali... Non so neanche se sia possibile fare il loro parry. Sì, però io lo devo stare zitto. No, 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 no. Vuoi lanciarle ste cazzo di anime ricercanti? Dio, buono che rabbia. Ma cosa fa? Esplode? Non mi ricordo. Sì che esplode, caspita. Ok, seconda volta che lo vedo in questa forma. Ascolta. Lady Maria. Wow. Ok, fa anche una presa. E siamo delle persone morte. Non è vero. Wow. Siamo morti? Siamo morti? Siamo morti. Sì, sì, ma ammazzami pure. Va bene. Ah, pensavo stesse per fare una gesture di vittoria. Tipo l'urrà. Va bene. Mi piace questo boss. Mi piace. Devo anche pensare di ammazzarlo però. Eh, vabbè, ma allora terrò timarone. E non abbiamo già più Estus. Chissà se lo vedremo nella seconda forma. Continua, continua. Non continua. Sì, vabbè. C'è scritto deficiente in faccia. Fantastico che faccia tutte quante le magie comunque. Come fai a girarti in quella maniera? E colpirmi così bene quando l'arma è lunghissima? Ma colpito col manico praticamente. Ma dai, smettila. Sono morto? Non è vero. Tecnica della famiglia Sautome. La ritirata a gambe elevate. Nel frattempo penso come cazzo attaccarlo. Gioca solo te. Cosa vuoi che ti dica? Come fa ad attaccare così tanto? In Dark Souls 3 hanno troppa stamina i nemici comunque. Io capisco che devo allontanarmi e poi tarlo con un attacco in corsa. Oppure dopo che ho schivato un attacco facendo un attacco in roll. Ma sinceramente è noioso giocare così. Eh vabbè qua me lo sono preso in faccia. Ancora? Ma quanti hit fa consecutivamente? Vabbè tanto è morto. Eh ma non abbiamo da curarci. Cioè assurdo. Facciamo un cazzo raga. Non ce la faremo a sto giro. È impossibile che ci riesca adesso. Dai vieni qua Lady Maria. Eh vabbè. Gli ho fatto un hit caricato con l'R2. Poteva stannarsi per l'amor del cielo lei. Ah non posso curarmi. No vabbè ma non ce la si fa. Ancora mi fa di nuovo la presa. Mi ha dato un bacio. Mi ha dato un po' di lingua ho visto nel mentre. Una buona ste cacchio di anime ricercanti. Ok ora riusciamo a colpirlo. E si destabilizza. Va bene. Però facciamo 6.44. Ci prendiamo un sole proibito in faccia. Oh. Ah no speravo qualcos'altro amico. Sì ma che cosa sono ste mosse? Sono inutili. Sono io qua al vero ninja. Smettila. Oddio ho paura di questa forma. Ma perché non ha rollato lei? Ma perché non mi rolla il mio PG? Va bene dai. Riproviamoci. Ah ma è tutta un'altra cosa con le katane. Però non si destabilizza mai. Mai nella vita. Ok devo ricordarmi che la prima magia che fa è sempre quella lì. E devo sfruttarla questa cosa. Perché posso colpirlo facile. Ma guardate i danni che prende con la katana. Ma io conto sul fatto che ti devi destabilizzare. Mi hanno curato. Mi hanno curato for free. Quindi questo boss è debole ai ninja a quanto pare. No perché ha fatto questo? Ho sbagliato. Dove ho dovuto fare L1. Quindi sì. Questo boss è debole ai ninja. Però non è comunque da sottovalutare. Va bene. Me lo sto. Wow! Womba Combo! Mom get the camera! Fuck! Perché mi hanno votato il messaggio adesso? Ma quanto è lento lei! Ma guardatelo! Ma cos'è sta lentezza? Allora i mob di questo gioco quando fanno degli hit lenti sono estremamente lenti e quando sono veloci ne fanno 7000. Ma perché? Era così anche negli altri soul. Perché non mi sembra? Quanti hit sono partiti! Ma la smetta! Posso morire per queste magie minori? No, 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 no. Io la odio a lei. Inizio seriamente ad odiarla. Wow! Ah, è stato maior! Ma quanto è OP questo attacco in avanti? Basta andare oltre lui però effettivamente. Ma fa solo questo lei! Guardalo di nuovo! Ma lei non sa giocare. Guarda che fa la cosa indietro. perché è inutile. Cosa si allontana da me? Niente. Fa il veleno e ti attacca. Non c'è un momento di... Ma qua ci stanno tante belle armi infilzate per terra. Ora che ci faccio caso. Che bella! Sto guardando l'ambientazione in questo momento. Adesso lo faccio tutto così il boss. Adesso lo faccio tutto così il boss. Sto lontano e faccio solo attacchi in corsa e torno via. C'è proprio una merda. Un modo di giocare di merda. E poi cos'altro vuoi farmi? Va bene. In fin dei conti quell'attacco caricato è una gran cavolata. Eh vabbè. Da schivare perché basta togliere il target e schivare oltre lui sulla destra o sulla sinistra. Ma perché sei così stramaledettamente stronzo? cosa fai? Mi palleggi in aria? Ma cos'è sta combo? Ma chi cazzo sei? Vedi Maria? 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 Eh ma tua madre tua madre tua madre l'ho già detto l'ho già detto che tua madre era bellissima cosa ha fatto? Mi arriverà qualcosa e la madonna ma perché ci casco? Avete presente la voglia di bestemmiare? Che è una cosa che non mi piace in genere come cosa però ogni tanto porca troia mi sto curando veramente troppo però d'altro onde Maria 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 pure ma dai ma vai affanculo Io non ho parole io inizio ad essere un po' stanco cioè fosse per me rega io ve lo dico io summonerai gente io se arrivo a finire le braci sammono gente non me ne frega un cazzo cioè ma perché devo perché devo avvelenarmi il fegato poi sono sicuro che rigiocando i new game plus arrivo qua più preparato anche con una build definitiva perché al momento non me la sono studiata molto e poi riderò riderò di questo frangente però ora c'è da piangere non me ne frega un cazzo Grazie a tutti.